Grazie a tutti. Che ci spiegherà come velocizzare Wordpress usando Varnish. Ciao a tutti. Gli argomenti di oggi riguardano principalmente le prestazioni. Quindi partiremo con un piccolo ripassino di reti. Parliamo di prestazioni, di Varnish che è l'argomento principale di oggi. Proxy e reverse proxy che riguardano la parte di ripasso. Come funziona e i due linguaggi su cui si basa. Io sono Matteo Enna, sono un back-end developer. Mi piace lavorare comunque con i CMS open source. Quindi adesso parliamo della parte un po' più noiosa. Un piccolo ripassino di reti. Allora, cosa succede quando noi andiamo su un sito internet? Quindi digitiamo sul nostro browser torino.warcamp.org e il nostro browser fa una richiesta get all'hosting, riceve tutti i nostri dati e poi tocca al nostro hosting rispondere. Detto in parole povere, questo è il protocollo HTTP. Una volta che l'hosting riceve tutto questo, ci sarà un web server, Apache o Nginx, dirotteranno la richiesta al linguaggio di programmazione, il PHP e poi ci saranno diverse query che il nostro CMS farà. Una volta successo questo, poi ci sarà un sistema di render che creerà l'HTML della nostra pagina, ci saranno i vari file multimediali da caricare, quindi JS, CSS, le immagini. E poi, ho scritto 2023, però già da 5 anni, c'è l'Ajax che a sua volta farà le sue richieste al nostro hosting. Facciamo un esempio, immaginiamo la nostra homepage di WooCommerce, rendiamola un po' più critica, magari durante il Black Friday. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una lunghissima pagina, magari dei banner in cui ci sono le promozioni, quindi tutti i nostri articoli che sono in promozione, liste di prodotti in evidenza, ovviamente i nostri CSS e JS, lato tecnico, comunque ci saranno dei cicli for che scorreranno tutte le promozioni, dentro queste ci saranno dei cicli for che ci faranno vedere tutti i nostri prodotti, e poi magari dentro ogni prodotto ci saranno dei cicli che magari espongono alcuni attributi. e infine ci saranno tantissimi utenti che faranno quindi tanti accessi, tantissimi clienti, quindi questi utenti comunque scriveranno sul nostro database, perché comunque faccio l'ordine, faccio il carrello, viene salvato. I carrelli poi si trasformano anche in ordini, quindi bisogna essere pronti per questa occorrenza. Quindi cosa facciamo di solito? Tutte le immagini ovviamente le abbiamo già ottimizzate, il CSS e il JS sono già minificati, abbiamo un hosting all'altezza, usiamo il CDN, dove il browser può cacheare, facciamo utilizzare la cache. Ovviamente cerchiamo anche di utilizzare una cache lato back-end, perché fare le stesse query mille volte. E tutto quello che comunque possiamo rendere statico, cerchiamo di renderlo statico, così carichiamo il meno possibile il nostro sito. Però comunque tanti utenti, tanti clienti, carrelli e ordini. Quindi comunque c'è anche un'operazione di scrittura comunque abbastanza impegnativa. Poi bisogna anche pensare che lavoriamo anche con l'AJAX, quindi comunque c'è tantissime chiamate HTTP. Quindi il carico nel nostro web server comunque è abbastanza eccessivo. Dopo 13 slide iniziamo a parlare comunque, nominare almeno Varnish. Allora, Varnish cache è un web accelerator ed è rilasciato con una licenza comunque libera. Forse il reverse cache, forse cache è un termine sbagliato. è un reverse proxy. Altro ripassino di reti. Il proxy diciamo che è un livello intermediario. Quello che di solito noi conosciamo lavora a livello di macchina, di computer, volevo dire. Si mette uno strato che c'è subito dopo il nostro browser e quindi che filtra, gestisce alcune chiamate. Il reverse proxy è al contrario. È uno strato che c'è prima del nostro hosting. Qui un piccolo esempio. Quindi l'utente cerca di connettersi e un proxy normale blocca, filtra e gestisce. Il reverse proxy invece è alla fine. Quindi l'utente va, si connetta a internet, cerca di andare a una pagina internet. C'è il reverse proxy che può bloccare, filtrare e gestire quello che stiamo vedendo. Il reverse proxy serve comunque per tante cose. Essendo lì prima delle macchine può bilanciare il carico. Se abbiamo un sito distribuito su N macchine ha diverse tecnologie che possono dire il 5% del carico va su questa macchina, il 15% su un'altra e così via. La privacy è migliorata. Essendo un livello che c'è intermedio comunque puoi strutturare il tuo reverse proxy in modo tale che certi dati dei tuoi utenti non ti arrivino. Puoi utilizzare anche più certificati SSL e poi funzionare anche come cache. È una cache a quel livello comunque molto utile perché essendo prima del web server il web server non viene chiamato in causa quindi non elabora il PHP non caricando il PHP comunque le query che sono cacheate le query non vengono neanche fatte quindi riusciamo a ottimizzare moltissimo il nostro lavoro. Come funziona? La prima volta che noi accediamo su un sito internet ovviamente la richiesta arriva a Varnish Varnish dice ok questa pagina ce l'ho in cache ok ottimo te la restituisco se non ce l'ho in memoria passo la palla al nostro web server il web server fa tutte le sue query fa i suoi calcoli eccetera e restituisce la pagina restituendo la pagina Varnish si salva una copia quindi questo permette di non avere elaborazioni né nella pagina principale né nelle potenziali chiamate dei Varnish quindi tutte le chiamate SOAP rest eccetera possono essere lavorate direttamente a livello di Varnish questo però può far capire che abbiamo una scarsa dinamicità per esempio magari durante il Black Friday che ultimamente comunque dura una settimana una settimana di promozioni magari abbiamo un team della nostra azienda che magari quotidianamente cambia banner cambiare banner poi andare l'atto andare sul terminale svuotare la cache diventa un po' pesante magari ci sono delle recensioni che vengono caricate quindi l'utente diventa scrittore e anche quello comunque va cacciato elementi nel carrello anche quelli comunque non possiamo statisticizzare con la pagina non possiamo comunque neanche abusare tantissimo di AJAX in alcune pagine comunque non è necessario comunque utilizzare le chiamate rest quindi Varnish dentro di sé ha un linguaggio di programmazione che permette tramite dei blocchi di dire in una stessa pagina in una stessa pagina questo pezzettino salvamolo in cache questo pezzettino invece rielaboralo ogni volta immaginiamo per esempio il carrello il carrello comunque il contenuto non c'è bisogno che venga caricato il contenuto c'è bisogno che venga ricaricato ogni volta però abbiamo comunque un header abbiamo comunque un menu abbiamo comunque una un footer che magari ha l'icconcina eccetera quindi è carico in più che non ci serve sono chiamate http che non ci servono alcune ce le elaborerà la nostra cdn ma alcune no esi come ho detto prima è su dei tag quindi dentro questi tag ci sono per mettere per dichiarare ok questo funziona tramite cache questo nel funzionamento classico del nostro web server qua ho messo alcuni esempi questo per esempio come lavora la bash con l'html questo è un linguaggio di programmazione che ci indica a seconda della pagina cosa devi fare questo ultimo pezzo è un linguaggio che si chiama la vcl la vcl è la penultima slide in cui noi creiamo le nostre funzioni per dire comportati in questo modo in questa pagina invece in quest'altra pagina in quest'altro modo un altro esempio col purge e il ban quindi suotami la cache in alcuni casi restituisci un altro tipo di contenuto come linguaggio di programmazione è fatto a hook e sabratin quindi appena che c'è un determinato evento viene triggerato quella funzione qua ci sono alcune funzioni chiave inoltre un'altra cosa importante che ho citato prima è il load balancing quindi viene a seconda del il carico viene diviso su più macchine e quindi il carico di lavoro è diviso utilizza i sistemi più classici round robin eccetera prima di salutarvi vi ricordo che utilizza una licenza completamente col free software quindi liberissima se volete fare dei approfondimenti ho lasciato dei link utili grazie a tutti grazie Matteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti